Dopo la stangata chiesta dal PM Giulia Maggiore per i presunti istigatori alla truffa, 13 in tutto, le condanne richieste, ieri si è tornati in aula per un altro filone di inchiesta sempre relativo al crack di Banca Etruria, quello sulla bancarotta. La sentenza è attesa per il prossimo 31 gennaio, quando il gruppo del Tribunale di Arezzo, Gian Piero Borraccia, deciderà sulla sorte dei quattro imputati che hanno optato per il rito abbreviato e sugli altri 27 ex amministratori, in questo caso però dovrà pronunciarsi sulle richieste di rinvio a giudizio. A scegliere il rito alternativo erano stati l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore Luca Bronchi, l'ex consigliere Rossano Soldini e l'ex vicepresidente e direttore generale Alfredo Berni. L'ultimo dienza ha visto le repliche dell'accusa in aula i PM Andrea Claudiani ed Angela Masiello, in rappresentanza del pool di magistrati che indaga sul crack guidato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi. I PM hanno depositato ed illustrato in aula una memoria in cui controbattono agli argomenti portati dalle difese. La pubblica accusa aveva chiesto al gruppo di condannare a cinque anni Fornasari e Bronchi, peraltro già destinatari della richiesta di processo per falso improspetto sulle famigerate obbligazioni subordinate, a due anni e sei mesi Berni ed infine a un anno e sei mesi Soldini. La procura contesta agli ex vertici dell'Istituto di Credito Aretino, una lunga serie di capi di imputazione per i reati di bancarotta semplice, per Soldini e bancarotta fraudolenta per gli altri tre imputati. La prossima udienza è stata fissata per il 28 gennaio e toccherà alle difese degli imputati prima che il giudice si ritiri in Camera di Consiglio.